Piraiello, appena sposata, mentre è in viaggio di nozze, vede lo suocero ammazzato dagli avversari mafiosi, da un'altra cosca. Torna a Partanna e dopo alcuni anni suo marito viene ammazzato davanti ai suoi occhi e agli occhi della piccola figlia che aveva messo al mondo tre anni prima. Non poteva continuare a vivere in quel mondo, Pira, trova la forza di andarsene, non era facile perché era strettamente controllata dalla famiglia mafiosa del marito, che ovviamente non voleva che lei scappasse, fuggisse. E in un modo cambolesco, grazie all'aiuto di un maresciallo, persona per bene, che riesce a far capire a questa giovane donna che c'è la possibilità di vivere in un altro modo, Pira riesce a parlare con Borsellino, tramite una giovane magistrata. E lì nasce una nuova storia. Oggi è una deputata del Movimento 5 Stelle. Saluto Piera Aiello. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. Allora, 30 anni sotto protezione. Prima testimone donna di quanto succedeva a Partanna, la guerra tra le cosche. 30 anni sotto protezione. Mi ricorda l'attimo in cui ha visto per la prima volta Borsellino in quella caserma, dove? Subito dopo la morte di mio marito, che è stata il 24 giugno del 91... L'ha ammazzata davanti ai suoi occhi, lui, no? ...davanti ai miei occhi nel 91. Dopo pochi giorni, grazie a questo maresciallo, vengo accompagnata a Terrasini, in una piccola caserma dei Carabinieri, con la complicità di un sostituto procuratore arrivato da poco alla procura di Sciacca, perché l'omicidio era successo a Sciacca e per competenza erano loro. Però, siccome loro avevano bisogno di sicurezza per la mia persona, mi hanno detto di aspettare qualche giorno e mi hanno portato da Paolo Borsellino perché lo ritenevano la persona più adatta a proteggermi. Lei non sapeva neanche chi fosse. Ma non sapevo neanche il significato di procuratore della Repubblica.